Allora, una cosa che mi viene in mente quando ero ragazzino, avevo avuto 16-17 anni e avevo visto Paul Gilbert suonare, non mi ricordo a Milano, da qualche parte, non mi ricordo in quale locale, o era Jennifer Button qualche anno prima, e Paul Gilbert era a suonare ovviamente un blues, cosa che oggi non farei mai, anche se purtroppo ancora a volte mi viene da fare, anche se poi quando me riascolto mi faccio veramente schifo, di suonare tre scale misolidie, come su uno stile, un pattern esteso, in questo stadio ovviamente la scala misolidia, e ovviamente lo prenderemo su un pattern Dorian di A, e quando lo chiediamo sul suo quinto grado, siamo chiaramente sul pattern della scala di A, di conseguenza, adesso se lo abbozzo anche solamente al volo... visto? fammi controllare un'altra cosa, spero si senta abbastanza bene... il senso suonata credo sia da Gilbert è la seguente... aspetta eh... ok... poi usa una misolidia... venta, misolidia, ma il senso è questo no? vibrato... legato... amera... una linea, venta... cambio... fino a qui non ha fatto nient'altro che cambiare queste tre scale, riparte sul primo grado del quinto... cioè... continua a girare intorno semplicemente sulla scala misolidia naturale di questa ovviamente in A per cui non è che parliamo di una tonalità maggiore... usiamo una scala misolidia di A questo è il suo stile... usa semplicemente questo è il suo modo di suonare... in A per cui è andato molto più sulla penta... riascolta... non è più spostato sulle seste... il settimo 7-mine... perché lo senti meno il colore... lo senti che è proprio sulla scala pentatonica... usa quasi una sesta major... a volte sposti il colore sul dorian... lo senti che è quasi non più consono a questo blues solo... perché in realtà non lo è... per cui... ma ci sta nel senso è il suo stile... per cui... secondo me ad esempio... qui viene questa cosa che si chiama... io non so se metterlo in rete... perché poi magari... off the wall... è una roba che probabilmente è stata distribuita da qualche... giornale britannico dove trovi un sacco di robe di... di Govan... e robe didattiche... Gilbert Masterclass... penso che fosse ai tempi... dopo che avessi finito... o stessi ancora per finire... di lavorare con il Mr. Big... eccetera eccetera... all'apice della sua notorietà... e... da dove si lavora anche su queste cose qua... ognuno di noi poi deriva il proprio stile... per cui... tiri fuori no... queste tre scale misolivie... per cui... riguardiamo... veramente... tranquillamente... le vediamo che sia un estese in arpeggio o meno... per cui... e lo vediamo... e abbiamo lavorato su questo discorso... per cui... poi lui ha un suo modo di suonare... ma questa è la nostra scala misolivia di La... la scala ovviamente... misolivia di Re... che... per avere sempre... poi io... nel mio modo di suonare... se dovessi lavorare su uno stile... similare a questo... la porterei... una Dorian di La... perché farei... il salto del quarto grado no... se dovessi andare a prendere la backing track... su... a parte l'intro... 1...2...3...4... misolivia... misolivia... quinta... e lo senti no... ok... e' chiaro che su questo short... i soliti a me... i soliti a D...